Allora, è pronta, signorina? Sì, maestro. Corregga la posizione dell'archetto. Fa, la, mi, re, mi, fa, attenzione al mi, da, sol, Si fa, son la sì, la sì, la sì, la fa, che cosa mi sta succedendo? Una tenerezza che io non ho provato mai, lo so che mi sto innamorando, Ma non ho il coraggio di confessarlo neanche a me, Innamorato di te, ed ho frettato di più Tu, perché, guardi me, ha capito già, Io vorrei dirti che forse tu lo sai Bene, segreto e profondo Una cosa dolce che io nascondo dentro me L'amore più grande del mondo Nato troppo tardi ormai E' un uomo come me Innamorato di te E' l'oltre in tanti di più Bene, allora ci vediamo dopo domani, signorina No, maestro Io vedrì allora No, maestro Io non vedrì mai E perché? Ha deciso di non continuare a studiare No, maestro Perché mi ha innamorato De usted No, maestro